Ciao, volevo parlare in questo video della sindrome della principessina. Che cos'è la sindrome della principessina? È una sindrome che impedisce a molte donne di avere una relazione sentimentale appagante. Perché? Perché sono prese dal mito narcisistico del Principe Azzurro. Cioè sono alla ricerca del Principe Azzurro e c'è dell'uomo perfetto, che però non esiste. Le fiabe hanno, diciamo, raccontato fin da quando erano bambine di rospi che diventavano principi e invece tu trovi rospi che restano rospi. Avevano raccontato del principe sul cavallo bianco che viene, ti porta via e invece non trovi nessuno. Allora che succede? Che fino a una certa età vanno alla ricerca del Principe Azzurro, perdendosi tutto un sacco di possibilità. scartano un sacco di uomini che potrebbero essere quelli giusti, ma che ovviamente non sono perfetti, come nessuno di noi è perfetto. E poi si ritrovano a una certa età quando capiscono che il Principe Azzurro non esiste, ma allora gli uomini più validi si sono già accapparati tutte le altre. Quindi passano dal Principe Azzurro al Principe Grigio Topo, diciamo così, che neanche Principe è allo stagliere Grigio Topo, e si accontentano di quello, cioè di relazioni legate con sofferenze e tutto, e quindi si sono praticamente bruciate tutte le possibilità. Quindi per le ragazze state attente alla sindrome del Principe Azzurro, perché è sempre in agguato e potrà sempre generarvi dei problemi. Per questo video è tutto, se ti iscrivi al canale avrai la possibilità di fare una domanda e di ricevere un video di risposta, se il video ti è piaciuto metti un like e condividilo con i tuoi amici. Ciao! Ciao!